Mi chiamo Leti Sergio, sono nato l'84 del 1925, sono stato chiamato partigiano Ging perché ho partecipato attivamente alla resistenza. Vorrei parlare di come è venuto questo mio sentimento di libertà, di ribellione e ho conosciuto nella fabbrica quando nel 1940 era appena iniziato la guerra. Ero stato a lavorare nel reparto fucinatori della Bromboveri, lavoro duro, faticosissimo, battevi la mazza sul ferro caldo e lì ho cominciato a conoscere quel reparto di uomini che erano, mano a mano mi era accorto che erano dei grandi antifascisti, c'era una solidarietà non indifferente fra di noi. Un giorno mi ricordo che era venuto un operaio dicendo se sottoscrivevo davo qualche cosa per il soccorso rosso, io non sapevo che cosa fosse, non avevo soldi, sono andato a casa e ho chiesto che cosa voleva dire questo soccorso rosso e mi era stato detto di dare qualche soldo, di portarmi qualche lira dietro e di contribuire anch'io a quella raccolta che veniva devoluta a quelle famiglie che avevano avuto dei familiari denunciati e messi in galera o addirittura mandati al confino. Gli antifascisti erano quelle persone che avevo, conoscevo attraverso questi racconti che si erano ribellati al fascismo. Che posto era la Bromboveri, quanti eravate, cosa facevate per la famiglia? Allora alla Bromboveri si faceva i locomotori, che era roba per le ferrovie, in un secondo tempo poi si sono fatti anche i vagoni ferroviari, i forni Martin Siemens della colata per le fonderie e poi siamo entrati a fare produzione bellica ed è questo che ci hanno dato un po' di spirito contro la guerra soprattutto perché oltre ad avere delle tessere, c'era la nonaria, c'era la ristrettezza sul mangiare, era tutto tesserato e ci davano un etta e mezzo di pane al giorno, erano due panini grossi così, potete immaginare. E avendo iniziato a fare la produzione bellica, si facevano 12 ore al giorno, per 6 giorni della settimana e la settimana dopo facevi altre 12, però di notte, si lavorava di notte, quindi i turni erano dalle 6 alle 18 e dalle 18 alle 6 della mattina. Nel frattempo nella fabbrica si cominciava del subbuglio, del malcontento, per il tesseramento, per la roba che era così tesserata. E quelle proteste ancora primordiali, non ben organizzate, però avevano avuto un certo effetto perché per i lavori pesanti che si svolgevano dentro la fabbrica era stata aumentata la razione del pane e l'avevano portata a tre e mezzo al giorno con qualche altra agevolazione. In più avevano organizzato la ditta, la fabbrica, una mensa al mezzogiorno, passavano a dare con un carretto, con un grosso pentolone, ti davano il solito mescolo di riso, si mangiava sempre riso e che in qualche modo ci agevolava un po' sulle risettezze che avevamo per il tesseramento. Ma al tempo stesso nasceva un qualche cosa di diverso nella fabbrica. I continui bombardamenti, le prime vittime di questi bombardamenti avevano provocato un'ondata già di antifascismo e ricordo benissimo che circolavano dei volantini dove si diceva di sabotare la produzione bellica. Erano cose un po' sottovalutate da tanti, ma c'eravamo un gruppo di giovani che eravamo un po' senza essere degli antifascisti, ma cominciavamo ad avere una coscienza diversa, quell'istinto di ribellione che ci portava a fare un qualche cosa di diverso. Siamo stati proprio quel gruppetto di giovani che più o meno avevamo tutti la stessa età, 16, 17 anni, 15 addirittura. Abbiamo incominciato a fare qualche sabotaggio. Ricordo che allora nei motori non avevano i cuscinetti a sfere, ma avevano le bronzine e aprivamo lo sporteletto dove veniva immesso l'olio e ci buttavamo delle manciate di smeriglio, delle mole, in modo da far bloccare i motori. Ogni tanto si riusciva a fare questi piccoli sabotagli e un giorno mi ricordo che stavo proprio facendo questo lavoro. Mentre mettevo questa manciata di smeriglio dentro a questa bronzina mi sento dire dietro, stai attento perché secondo chi ti vede ti fai licenziare. Era un capo operaio per giunta, era scritto al fascio, era di quelli che portavano sì la camicia nera anche se per convenienza, per quieto vivere come usava allora tantissimi avevano preso la tessera del fascio per tranquillità familiare anche per il lavoro. Alla Bromboveri di giovani ragazzi come ero io c'eravamo tantissimi perché ogni operaio quasi tutti avevano il garzone, l'apprendista che grazie a loro abbiamo imparato tutti un buon mestiere. Era una cosa molto interessante questo e c'era soprattutto da parte di tutti questi operai che eravamo noi garzoni, avevano nei nostri confronti anche una cosa molto paterna, un affiattamento e mi ricordo che qualcuno diceva dammi del tu, capite immaginare allora che usava dare il voi alle persone anziane ti trovavi veramente in difficoltà. Alla domenica dopo aver fatto tutte quelle ore durante la settimana e dovevamo andare a fare l'istruzione militare premilitare allora e alla Bromboveri si era, si faceva dato che era una fabbrica altamente specializzata i giovani premilitari cioè quelli che poi dovevano andare a fare militare eravamo tutti inquadrati nella cosa della marina era era stato formato questo gruppo di premarinai. Difatti quando abbiamo fatto poi la visita al premilitare eravamo tutti di marina e dall'altra parte quelli che erano fuori dalle fabbriche si doveva fare l'istruzione militare nella casa del fascio premilitare. Io avevo giocato un po' di un po' di ambiguità era un po' e non andavo né da una parte né dall'altra tanto è vero che a dove c'era fuori i premi degli avanguardisti non andavo lì dicendo che lo facevo per la cosa militare lo facevo premilitare lo facevo alla Bromboveri e alla Bromboveri viceversa dicevo che lo facevo là. Che cosa è successo? Che un bel giorno sono stato scoperto di questa mia duplice negazione soprattutto vuole chiamarla perché non andavo da una parte e da un lo chiamavamo Gerarchetto perché era più o meno della nostra età era poi diventato anche un ufficiale della milizia fascista mi aveva minacciato di farmi licenziare perché mi aveva scoperto che non andavo a fare premilitare e c'è stato un po' un terrafuglio va bene non vado nei particolari non vado nei particolari ma ci siamo un po' malmenato ecco e mi ha denunciato dicendomi mi faceva licenziare mi aveva per questo che siamo venuti alle mani ma fortuna mia che pur essendo stato deferito alla commissione di disciplina che era una specie di chiamiamo se vogliamo un tribunale premilitare mi aveva denunciato e aspettavo mi aspettavo licenziamento per fortuna che questo fatto era venuto nella primavera del 43 nella tarda primavera e così prima che prendessero questi provvedimenti nel luglio del 43 era caduto il fascismo e mi è andata bene ho continuato a lavorare eravamo dei giovani che pur non avendo ancora l'istinto vero e proprio di essere degli antifascisti facevamo a modo nostro i nostri i nostri dispetti e ricordo che quando mettevano quei manifesti che inneggiavano alla vittoria delle nostre truppe in albania in grecia in tunisia dove le nostre truppe si voleva l'impero allargare l'impero si diceva allora il mare nostro che tutti gli stati che erano bagnati dal mediterraneo dovevano diventare l'impero fascista di mussolini e quando mettevano questi manifesti noi po mascalzoni sporcavamo con lo stercole i manifesti e che cosa succedeva che andavano arrestare quelli che erano gli antifascisti credendo che fossero ricordo che nella mia scala c'era parte divisi un po a metà tra antifascisti e fascisti e c'era stato uno che tra l'altro il fratello era stato deportato in germania e poi non era più tornato e lui che era uno di quelli che veniva arrestato un giorno mi incontra per la scala con quel sorriso un po sornione mi ha detto siete stati voi altri sei stati inviati eh però ci aveva fatto questa osservazione quasi in modo bonario con convento convinto anche se era stato arrestato però era contento nel dire cioè c'è qualche d'uno che si sveglia anche domani nel loro piccolo così erano quei piccoli dispetti che si facevano che poi andando avanti sono stati concretizzati veramente nel vero di ribellione quell'istinto di ribellione che poi l'abbiamo manifestato andando a fare il partigiano e quando nel 43 posso andare avanti mi è arrivato la lettera di presentarmi al distretto militare all'8 di dicembre del 43 mi dovevo presentare a Vercelli cosa succedeva che le leve del 24 del 23 di marina non l'avevano ancora chiamate l'avevano chiamate in quel periodo lì erano passati tutti di di terra di marina non avevamo più nave non c'era più niente e cosa succedeva che molti invece di presentarsi non si prese si nascondevano presso parenti o amiche o famiglie benevoli si nascondevano e allora era successo che i carabinieri quando sapevano che erano a conoscenza di queste lettere che ti mandavano venivano una settimana o dieci giorni prima a prelevarti ti prendevano ti mettevano sopra il treno ti portavano ti facevano andare a Vercelli tanto è vero che io una settimana prima di quando mi dovevo presentare ero stato nascosto da una mia cugina nella qualità Tana di Vado Ligure dove adesso sorge la centrale allora c'erano dei piccole case coloniche di contadini e poi avevo in casa avevo parlato di questo che io non mi voglio presentare e avevamo avevamo saputo che c'era questo un gruppetto di persone armate in quel di Roviasca io a casa ci ho detto io voglio andare là allora la parola partigiano non esisteva ancora e ci ho detto io vado vado su anch'io stare chiuso in una casa non me la sentivo e allora quando hanno saputo che voglio andare in su c'erano due operai che proprio guarda caso e lavoravano lì alla Brombovere nella stessa stessa uno proprio nel reparto da Forge sono venuti a prendermi mi hanno accompagnato qualche giorno prima in una famiglia su nel Quiglianese e mi hanno tenuto lì nascosto e credo al 7 all'8 il giorno che mi dovevo presentare sono stato lì un giorno due e poi mi sono venuti a prendere questi due operai della Brombovere e mi hanno accompagnato su Altersè attraverso la montagna a passare da montagna poi abbiamo fatto la Tregendia attraversato la Rio Tregendia siamo andati su e sono andato a finire in quel gruppo di 7 persone e io sono diventato l'ottavo che erano lì in gruppo armato che più che altro azioni militari in quel periodo lì non le avevi fatte però ti curavi delle armi che erano state dopo il fatto dell'8 settembre avevi preso delle armi anche noi a vado avevamo preso delle armi lì nell'asilo dove c'era la fanteria guarda frontiera si chiamava abbiamo preso i fucili e soltati portati su c'era un carai un carai rodi carai c'era Ernesto Di Marco c'era Pianisola Bruno anziani e c'era il calcagno c'era Giorgio Pretteni c'era Aldo Cailani e l'altro chi era? me ne dimentico uno me ne dimentico uno adesso che non... comunque sono scritti nel coso del libretto del Terse e cosa è stato? cosa è avvenuto lì? quindi i giovani della tua età quanti eravate? due o tre? due giovani ah c'era Vincenzo Pesso che poi doveva morire nei partigiani anche lui cosa era? curavamo questi fucili queste avevamo trovato una grotta dove faceva la manutenzione i fucili queste cose qui era stato organizzato per avere l'approvvigionamento nostro che lì in località a Roviasca c'era uno latitante anche lui che però faceva un po' di magazziniere cioè portavano degli aiuti che si potevano avere di mangiare a volte anche soldi e andavamo periodicamente a prendere da questo magazzino portare sui viveri quello che ci potevano dare era nel... verso il 19, 20, non so di apri... di dicembre un bel momento viene io mi ricordo che doveva andare giù a Roviasca a prendere a fare quel servizio era la mattina verso le sette era appena giorno si sentivano le sirene dell'allarme delle fabbriche secondo che rimanevi diciamo sotto vento sentivi le sirene delle fabbriche che suonavano l'allarme aereo io ero lì che mi lavavo fuori lì nel ruscello mi davo una lavata viene un tale che poi è venuto su nei partigiani e mi dice guardate che c'è il pre-alarme io scherzando ci ho detto beh il nostro seccatoio non ce lo bombardano non scherzando no no mi fa guarda che c'è l'allarme per voi altri e ci aveva detto ci aveva anticipato che giorno prima avevano saputo che doveva fare questo rastellamento proprio lì dove eravamo noi e allora sono andato subito dentro ci ho detto guardate è venuto anche lui a dire guardate che vengono su stanno venendo su a... e sono venuti su erano allora c'erano i bersaglieri e la milizia fascista ci siamo appostati a semicerchio dietro questo seccatoio e quando arrivano dal... era in Carrareccia allora no? sentieri eccetera è cominciata la sparatoria e aveva aperto il fuoco credo di Marco insieme a Pippo Pes mi sembra però nel frattempo cosa è successo? che sono passati anche di sopra avevano sotto al monte barracone poi erano scesi giù ci hanno presa le spalle è stato quel accompagnati dalle solite spie voglio precisare una cosa che i peggiori nemici della lotta partigiana sono state le spie questo è una delle cose che ho sempre sottolineato perchè abbiamo avuto anche delle perdite enormi per queste spie c'è stato questo sbandamento io ero insieme a Prettini hanno purtroppo hanno preso il povero Calcagno che poi è stato fissilato io ero insieme a Stengo e a Villermigli qui nel Suala Qualcosa io ero andato insieme a Prettini lì alla casa del Termo al Termine che c'era lì uno che non ricordo più il nome Pinin era Pinin di... era un antifascista che era andato via era andato lassù con sua moglie e faceva un po' da tramite con le persone che ogni tanto venivano su a vedere come era la situazione io ci ho detto cosa era successo nel frattempo poi ho detto guarda io vado giù sono andato in casa di uno di quei operai che mi aveva e stavano a Terenzano e sono andato a casa sua e ci ho detto guarda che è successo qualche cosa perché avevamo sentito dire arrendetevi quando c'è stato quella piccola sparatoria e ci ho detto credo che abbiano preso qualche d'uno insomma mi ha detto beh stai qui in casa e mi aveva dato da mangiare in casa sua è andato a vedere Aquigliano Aquigliano è il risultato che c'era un prigioniero che non sapevano ancora che fosse Caglià e mi ha detto vediamo un po' stasera se riusciamo a liberarlo se lo tengono lì c'erano 5 o 6 carabinieri di posto ci ho detto guarda vengo anch'io vengo anch'io c'avevo ancora una pistola mi dice state nel Libravo perché proprio questa mattina è stata una coincidenza i carabinieri erano venuti a cercarti in casa tua l'avevano saputo subito e cosa è successo che un disguido o qualche cosa non c'era ancora l'esperienza vera e propria della guerra della guerriglia avrebbero potuto liberarlo però c'è stato qualche cosa che non ha funzionato all'indomani mattina a Calcagno l'hanno portato a Savona nelle carceri a Sant'Agostino che poi è stato fucilato grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti